Ci troviamo sul campo sportivo in erba sintetica di Cepagatti per la seconda di campionato giovanissimi Girone Chieti. Oggi scenderanno in campo le compagini della Virtus Castelfrentano giovanissimi e FC Chieti 1922. Fanno il loro rientro nei spogliatoi per l'appello, l'identificazione da parte dell'arbitro. Ecco abbiamo l'Arnè, Lorenzo Dinella, Tenaglia, fai il guardalinea, pure Gabriele, a posto. Pubblico!